Il padre di Andrew Wilkinson, Wallace Wilkinson, trasformò la sua società di libri di testo in un affare da milioni di dollari. In seguito venne eletto governatore del Kentucky, ma dopo aver svolto il suo mandato tornò e trovò la sua compagnia in disordine a causa di discutibili collaborazioni che portarono alla rovina finanziaria, alla sua azienda e alla sua famiglia. Mio padre ci spiegò che era forzato a un involontario fallimento e che i suoi debiti ammontavano al momento a circa 480 milioni di dollari e che questo era potenzialmente catastrofico. e mi resi conto che le nostre vite stavano per cambiare molto drammaticamente. Andrew e suo fratello avevano vissuto nella ricchezza e nei privilegi per la maggior parte della loro infanzia e anche se i genitori li avevano cresciuti in chiesa, Andrew dice che non aveva mai conosciuto Cristo e iniziò a consumare algo le droghe in giovane età. Non capivo Gesù Cristo come Dio, non lo capivo come uomo, non capivo il piano della salvezza, ero viziato. Anche mio fratello era altrettanto viziato. Ero immaturo, ero arrogante, ero insicuro. La mia identità e la mia vita erano completamente immerse in proprietà materiali. La mia identità era in cose senza fondamento. Nel 2002, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro linfatico, il padre di Andrew subì un ictus e il giorno dopo morì. Mio padre se ne andò a un anno dall'inizio del procedimento fallimentare e mia madre e mio fratello e io restammo, mancando una parola migliore, paralizzati, con in mano la patata bollente. Mentre sua madre si occupava delle conseguenze della bancarotta e negoziava con i creditori, Andrew si trasferì da un amico in Florida per proteggere i pochi beni rimasti di suo padre. Quando poi arrivai in Florida, allora cominciai a rivolgermi alle cose che conoscevo. E che cosa conoscevo? Conoscevo la droga e conoscevo l'alcol. Nel corso di circa quattro anni camminai per una strada di totale autodistruzione. Senza laurea, senza contatti e con poche capacità, Andrew continuò a rivolgersi alle droghe. Mi davano la scusa per fare la vittima. Ogni giorno cominciava allo stesso modo. Mi alzavo cercando il prossimo sballo. I miei giorni e le mie notti erano centrati nello sfuggire alla realtà. Una mattina, Andrew, in un parcheggio, assunse forti dosi di cocaina e di Valium. Svenni, il direttore, chiamò la polizia municipale di Sumter County. E vennero e mi trovarono accasciato al posto di guida, con saliva e muco e liquido che mi gocciolavano dal naso e dalla bocca. Venne arrestato per possesso di cocaina e messo in libertà vigilata. Ma quando gli esami medici confermarono l'abuso delle droghe, fu rinchiuso in carcere in attesa di processo. E lì litigò con un altro detenuto. Purtroppo per lui, questo era il capolinea per me. Mio padre era morto. Tutti i soldi se ne erano andati. Mia madre era affranta e scoraggiata per quello che stavo facendo e per come vivevo la mia vita. Avevo mentito, truffato e ingannato quasi tutti quelli che potevo. Ed eccomi qui. Quest'uomo stava gettando tutte le mie cose nel bel mezzo dell'area comune e mi insultava in quel modo. Ero un figlio d'ira. E l'ira si riversò da me. Andrew picchiò il compagno di prigione fino all'intervento delle guardie. Così fu messo su un furgone per il trasporto in un'altra contea dove sarebbe stato processato. A causa delle numerose fermate, il viaggio durò 21 ore. Fui portato via con addosso solo un paio di pantaloncini, senza camicia. Ero incatenato ai polsi, alla vita e alle caviglie. Ero un patetico, sconfitto, pasticcio. Non avevo la capacità in me di farcela da solo. È quello che si dice essere senza speranza. E dovevo guardare in faccia la verità su quello che Andrew aveva fatto della sua vita. E la verità era che Andrew, al timone, aveva fatto un disastro della sua vita. Sul retro di quel furgone, Andrew si rivolse a colui di cui aveva sentito parlare in chiesa. Io feci la prima preghiera sincera della mia vita e pregai a Gesù Cristo. Ed egli rispose alla mia preghiera. Mentre ero seduto al fondo del furgone, sentii il perdono. Sentii lo Spirito Santo entrare nel mio cuore. E sentii il Signore, Gesù Cristo, che mi diceva che c'era una via e che Egli era la via. Ma io dovevo smettere, dovevo arrendermi. E dovevo focalizzarmi sul futuro e proseguire nel suo amore, misericordia e compassione. Andrew venne condannato ad un anno di carcere. Mentre era lì, iniziò a studiare le scritture e a cercare guide spirituali. Quando ha persi la mia Bibbia per la prima volta in prigione, proprio il primo versetto, quando aprì la Bibbia, fu Luca 19,10, che dice, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare salvare ciò che era perduto. E quando lo lessi, quelle parole uscirono da quella pagina e marchiarono a fuoco il mio cuore, marchiarono a fuoco il mio spirito. Si immerse nella parola di Dio e fu rilasciato un anno dopo. Oggi Andrew è un marito e un padre e finalmente sa cos'è veramente prezioso. Questo mondo strilla che sei quello che hai. Io ho infinitamente di più di quello che abbia mai avuto nella mia vita. Quando mi guardo allo specchio, so chi è Andrew, so che cosa è importante, la mia fede in Dio, mia moglie, la mia bambina e la conoscenza che c'è tanta vita davanti a me. Andrew ha un ministero per i prigionieri e ama condividere il suo messaggio di speranza. Io ricordo com'è sentirsi impotente. Andando avanti, la mia missione nella vita è condividere che non sei senza speranza. C'è una via e non c'è solo una via, ma la vita può venire a te più abbondantemente che mai prima ed è attraverso la via della croce, è attraverso Gesù Cristo.